David Sassoli, cari amici, David Sassoli. Vengo tempestivamente informato dall'amico Alessandro Arcangeli che David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, è morto, è morto, una morte improvvisa. Il fatto è che io, Serafino Massoni, mi ero già interessato di David Sassoli in un video di due anni fa intitolato King David Sassoli, re David Sassoli. Sì, sì, io ho questo video di due anni fa intitolato King David Sassoli, ve lo metto come l'invento di questo video perché ero venuto a sapere che David Sassoli era ebreo, ma io non sapevo se fosse ebreo da parte di mamma o da parte di papà, non lo sapevo, non lo sapevo ancora, non lo so. Oppure se non era ebreo, David Sassoli era molto amato dagli ebrei, era ben voluto, molto ben voluto. E voi dite, ma che c'entra il marinaio delle Antille? Beh, c'entra, c'entra il marinaio delle Antille perché qua c'è la stella di David, va bene? E non mi dite che non lo sapete che cosa significa la stella di David? La stella di David significa lo Stato di Israele, significa gli ebrei e lui si chiamava David Sassoli, David Sassoli, non Davide, il re del mille avanti Cristo circa, il re ebreico del mille avanti Cristo non si chiamava David, non si chiamava Davide, si chiamava David, re David. E per questo che due anni fa sul web io avevo pubblicato il mio video intitolato King David Sassoli, re David Sassoli, re David Sassoli e spiegavo in quel video che mettiamola come vogliamo, io non ho le prove che che David Sassoli fosse ebreo o da parte di mamma o da parte di papà, però Davide, Davide significa qualcosa Davide, anche Serafino significa qualcosa, che sia chiaro, e anche Serafino significa qualcosa. Ora, se era ebreo David Sassoli, se era ebreo ora non c'è più, c'è un vuoto, c'è un vuoto nel Parlamento Europeo, c'è un vuoto, è morto il Presidente del Parlamento Europeo, una persona di grande competenza e di squisita sensibilità e casomai lo si volesse rimpiazzare con una persona con analoghi requisiti, il Parlamento Europeo non deve far altro che pensare a Serafino Massoni, perché Serafino è un nome ebraico, Massoni rinvia la masoneria, ma la masoneria a sua volta rinvia al Tempio di Re Salomone, non si riesce dal seminato, non si riesce dal seminato, non si riesce dal seminato, capito? Parlamento Europeo, absitinuria verbis, io avevo tanto tanto apprezzamento per David Sassoli, c'è il mio video di due anni fa intitolato Re David Sassoli, King David Sassoli, lo metto come linea dell'assunto di questo video, che sia chiaro. Comunque caro Parlamento, se vuoi sostituire David Sassoli con un nuovo presidente, eccomi qua, io sono a disposizione, perché il mio nome Serafino è di origine ebraica e il mio cognome Massoni rinvia la masoneria, via al Tempio di Re Salomone, i fratelli moredori, che tra l'altro pure Giuseppe Garibaldi era un massone, tra l'altro, ma in un certo senso l'unità d'Italia è stata fatta dai fratelli masoni. Va bene, va bene cari amici, avevo tanta tanta tenerezza per David Sassoli e appunto due anni fa gli avevo dedicato un video intitolato King, in inglese Re, David Sassoli. A tutti voi cari amici, tanti cari saluti dal Marinaio dell'Antille, che è un romanzo storico ambientato ai tempi del Terzo Reich e per l'appunto da una parte vedete la stella di David e dall'altra la croce uncinata alias la svastica nazionalsocialista. Ok, ok, ok. Ok. Ok.